ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su until the last plane desidero prima di tutto ringraziare lo sviluppatore carlo c che mi ha inviato un codice diciamo in anteprima con cui ho potuto provare il gioco il gioco uscirà inizio 2021 però potete già giocarlo in versione demo su steam è un gioco dove si andrà ad amministrare una base militare si diciamo invieranno gli aerei in missione il gioco in versione ovviamente rilascio avrà disponibili tre nazioni la russia l'urse la germania e gli stati uniti e ogni mappa ogni tre mappe diciamo ogni nazione quindi avremo tre ambientazioni diverse avremo da quanto mi pare di ricordare 18 aerei tipi di diverso e dovremo gestire appunto tutte le varie componenti degli aerei quindi ad aerea ripararli e nonché con una sorta di combattimento turni far vincere le battaglie ai nostri aerei il gioco si divide in varie modalità al momento non c'è l'italiano perché non è disponibile per la demo ma al rilascio come potete notare dalla pagina su steam il gioco è e sarà in italiano c'è la modalità campagna vedete con le tre nazioni al momento possiamo scegliere solo usa oppure il tutorial proviamo magari una campagna usa e vediamo un attimino come funziona ci sono vari tipi di missione in italia non è disponibile la demo possiamo giocare solo a tunisi quindi in tunisia abbiamo la potenza degli aerei dei tecnici delle risorse perché dovremo amministrare diverse cose durerà sei giorni quindi la versione è una demo appunto quindi il tutorial è abbastanza articolato perché ci mostra svariate cose l'alto comando a ti ha incaricato con l'amministrazione di gasfa e porta l'aeroporto di gasfa la tua missione è supportare le truppe di terra che hanno bisogno di avanzare a tunisi durante il primo giorno dovresti fare una ricognizione per scoprire i diciamo bersagli strategici la vittoria dobbiamo vincere almeno una missione per giorno e la sconfitta è se perdiamo tutti i piloti abbiamo una quantità di aerei in questo caso ne abbiamo sei abbiamo fondi iniziali vi spiego anche come funziona qua vedete il giorno l'ora qua abbiamo il numero di piloti di scusate di meccanici di piloti e la il morale qua abbiamo la possibilità di avviare la missione e qua invece abbiamo le varie componenti quasi parla di spare parts quindi io presumo siano cose di diciamo di di riparazione in tanto tempo stanno andando avanti il carburante e il e le munizioni qua abbiamo vari edifici quindi qua abbiamo il workshop che ci permette di fare il crafting vedete che possiamo andare a castare varie parti di aereo di aereo nel caso in cui non fosse riparabile una parte dell'aereo qua abbiamo il warehouse dove possiamo riordinare le varie vari pezzi tutto a un'attesa quindi magari uno mi chiede un minuto e dobbiamo aspettare un minuto intanto il tempo va avanti dobbiamo darci una mossa perché dobbiamo fare la ricognizione del giorno 1 e qua invece abbiamo il quartiere generale dove possiamo andare a spendere gli skill point per migliorare le nostre cose allora iniziamo a fare un giro di ricognizione possiamo scegliere la quantità di carburante quindi i rischi che abbiamo ma aumentare anche le informazioni e il raggio io faccio un per due e andiamo a decollare l'aereo decolla bello perché nel tutorial si può comandare un avamposto spagnolo e ci sono proprio le voci spagnole quindi è fatto fatto davvero bene vedete qua il cerchio lì non significa che abbiamo trovato un bersaglio nella nostra ricognizione abbiamo consumato con l'aereo che è andato in ricognizione appunto due di carburante come abbiamo scelto all'inizio quindi adesso l'aereo arriverà su questa pista aerei tutti completamente diversi 18 fatti veramente bene abbiamo missioni abbiamo una missione dove ci viene specificato il numero di obiettivi da uccidere il vento che è un vento molto lento molto debole la temperatura è alta siamo al deserto e consigliano aerei da combattimento quindi in questo caso take off possiamo scegliere ogni pilota ha delle statistiche diverse e anche di conseguenza anche l'aereo io adesso dato che siamo in prova insomma gli scelgo a caso ne mando 3 posso mandare le 4 no le mando 3 mandiamo le 4 ovviamente più vanno in missioni più tornano rimangono danneggiati insomma fa salire il livello di fatica e stress quindi bisogna fare attenzione a questo inizia la missione inizia la missione decollano tutti adesso l'ultimo è decollato e vedremo intanto devono scortare un vip in pratica che la missione è una scorta vip qua vedete i secondi dove vedete possiamo andare a fare un combattimento in questo caso siamo stiamo attaccando quindi dobbiamo fare una scelta quindi un movimento attacco normale attacco da sotto e attacco in tuffo io faccio così ho sbagliato perché lui si sta spostando in questo caso vedete che ho sbagliato perché al termine di questi movimenti deve essere nel nostro campo d'azione quindi in questo caso ho sbagliato e ho andato adesso abbiamo un'altra cosa gli attacco normale vedete che mi avvicino vedete un pochino studiare dive attack ok adesso vado all'attacco normale dovrei colpirlo e si infatti si è messo proprio davanti quindi lo colpirò e abbiamo abbattuto un nemico qualora appunto dovessimo essere noi sotto attacco dovremmo fare la stessa cosa cercando di stare lontani da quella raggio da quel cono che allora adesso attacchiamo avanti e mannaggia minimi si sposta attacca normale mi attacco in tuffo è così mannaggia vedete qua abbiamo sbagliato quindi va bene devo ancora capirla pardoneggiarla bene come cosa però va bene dobbiamo uccidere un minimo di due piloti quindi dobbiamo fare molto molto attenzione in questo caso ci si metteva dietro mannaggia ho sbagliato porca bestia ok però lui si è messo lì dovremmo colpirgli la corda dovremmo tirarlo giù sì infatti bene abbiamo completato la missione perché comunque dovevamo abbatterne un minimo di due e quindi va beh qua continueremo però dopo un po gli aerei comunque hanno bisogno di carburante quindi dovranno atterrare questa è una delle parti più più belle che mi piace perché bisogna amministrare anche il volo allora adesso in questo caso avanziamo piano piano da itti qua mi sposto così gli sto addosso vediamo se ci si muove perfetto riusciamo ad abbatterlo tranquillamente e l'abbiamo buttato giù vedete questo è fuori ha finito nelson ha finito le munizioni quindi andrà nella pista mi sa questa qui iniziano siano finito tutte no ha finito qua cliccando possiamo andare a riempirlo vedete che abbiamo 10 in questo caso andiamo a 9 perché gli riempiamo le munizioni e riempiamo le munizioni e anche questo qua dovremmo riempire le munizioni poi dobbiamo fare attenzione finiranno il carburante riempiremo il carburante e qualora venissero abbattuti se non muoiono quindi riescono ad arrivare nuovamente qui dovremmo ripararli riparare gli aerei stavamo per fallire la missione voglio fare sto movimento qua cercando di anticipare le mosse dell'avversario voglio fare questa vediamo ok no non dovremmo riuscire a prenderlo infatti è fuggito e poi pian piano ridecollano in questo caso questo aereo invece ha finito intanto sto aspettando che si libera pista però abbiamo completato la missione abbiamo ricevuto altri fondi abbiamo abbastanza parti ancora senza necessità di dover acquistare qualcosa però voglio acquistare qualcosa quindi prendiamo 5 di carburante vedete un minuto per farcelo consegnare qua questo aereo qui invece ha finito questo ma in realtà dovremmo aver finito come missione però vabbè intanto aspettiamo non si può passare al giorno successivo vediamo se abbiamo altro da fare cliccando sulla torre di controllo vediamo quello che è successo e qua abbiamo tutti i piloti con quello che stanno facendo cliccando qua in alto molto molto bello mi piace voglio vedere abbiamo un punto da spendere bisogna spendere qui durabilità del di ogni aereo qua abbiamo tutti i tecnici lavorano 10 per cento più veloce aumenta l'accuratezza di 10 si lo prendo prendo quello così almeno diventano tutti molto molto più precisi piloti possiamo fare un'altra ricognizione no intanto aspettiamo che mi consegnino altro carburante ne ho preso 5 quindi dovrei andare a 12 adesso infatti ricognizione no facciamo 2 take off ok andiamo a vedere perché non mi pare si quasi può aumentare la velocità della giornata però non credo che vedete ne abbiamo completata una qua adesso ne stiamo per avviare un'altra ma sta per arrivare comunque alla fine della giornata quindi non lo so vediamo vediamo se riusciamo a farla nuova missione abbiamo due aerei da uccidere take off mando dei piloti che non hanno magari mando questi dai ne sto mandando un po troppo lo sto sto amministrando tutto questo un po così funky questo è un aereo da ricognizione gli altri sono aerei invece più più grossi e infatti vedete che ho l'aereo qui da la ricognizione e l'altro infatti devo fare attenzione non manda a quello ma io temo di aver mandato quello stavo mancando la cosa avanziamo dobbiamo abbattere anche qui almeno due nemici ci buttiamo di là ok perfetto grande amico mio enemy down stiamo attaccando noi quindi non siamo soggetti ai loro attacchi però vediamo magari potrebbe essere anche il contrario lo si ricapisce da il cambio di colore delle icone adesso qua ci portiamo avanti devo capire ok ok perfetto ok abbiamo completato anche questa due miss ben due missioni oggi la scorta del vip sta andando discretamente bene altro scontro così e però c'è ok c'è man fatta ottimo molto bene stiamo indebolendo le le truppe nemiche allora 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 vediamo se abbiamo altro da fare ecco questo questi qua qui siamo noi sotto attacco quindi possiamo fare una mossa abbiamo due mosse di questo tipo mannaggia ci siamo mossi veramente male fallo ancora merda non posso così eh no c'è un preso in pieno mayday mayday e dovrebbe tornare si ha bisogno di assistenza quindi adesso si parcheggerà e intanto adesso facciamo questo scontro qui poi vediamo ne riparliamo uno due e va avanti e dovremmo averlo preso infatti perfetto quattro aerei abbattuti in questa missione quindi direi che è andata piuttosto bene ora vedete che lui è fermo e possiamo andare a fare allora è leggermente danneggiato possiamo andare a vedere le varie componenti che sono il cockpit il motore insomma questo però fa anche il passo indietro che non capisco ok si questo l'abbiamo battuto è stato un successone questa missione devo dire che ci è andata veramente molto bene stiamo facendo un inspection scusate non una riparazione credo ha finito le munizioni riempie le munizioni vedete che scendono dobbiamo comprarle eh si dobbiamo riparare il cockpit con otto spare parts poi tanto tu cosa hai bisogno ah ma anche tu ah adesso stanno riparando infatti lo voglio gettare ehm ci vuole un po' di tempo devo comprare munizioni devo comprare munizioni ne compro dieci dai spare parts ne abbiamo fuel ne compro cinque ok abbiamo completato un'altra missione non abbiamo perso piloti abbiamo guadagnato punti morale ma siamo già al massimo Nelson è stato promosso a medio insomma tutti i piloti alcuni piloti sono stati promossi quindi molto molto bene in questo caso possiamo passare di turno però volevo andare a vedere vedete che intanto più dieci accuracy cioè sono livellati alcuni piloti quindi dobbiamo fare attenzione a non perderli qua abbiamo vabbè il giorno è finito quindi non possiamo reclutare nulla si passa al giorno successivo tutti gli aerei devono essere riparati prima ok posso passare adesso ah no devono finire anche tutti gli ordini io ho paura quindi vediamo adesso se c'è altro da fare craft vedete qua possiamo andare a craftare possiamo assegnare più tecnici per lavorarci quindi qui è importante avere l'abilità giusta che potenzia magari la velocità del 10 o 20% dipende dalle abilità e delle talenti che prendiamo possiamo andare a costruire le parti infatti vedete che ne abbiamo una in stock per ogni tipo niente dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare che finisca questa parte qui l'ordine qui che mancano 10 secondi ormai penso che ce la possiamo fare e poi andremo al giorno 2 abbiamo completato ben due missioni abbiamo l'obbligo per questa campagna di farne almeno una al giorno quindi passiamo la giornata giorno 2 la partita viene salvata e si va avanti con un nuovo briefing allora la strada per tunisi deve essere ripulita liberata la missione di oggi abbiamo nemici con veicoli armati distruggine più che puoi la missione del giorno scorta i carri armati il capo del villaggio vicino ci ha mostrato ha detto che bellissimo che voi alleati siete finalmente arrivati ti diamo un regalo dei frutti cresciuti dai loro coltivatori accetti il regalo certo accetti il regalo e il capo del villaggio sembra molto contento sfortunatamente i tuoi uomini hanno mal di stomaco dopo aver mangiato quei frutti va bene il nostro campo è stato raidato durante la notte sfortunatamente si sono presi alcune parti di riparazione non abbiamo più sintesi quindi le dobbiamo ordinare ne ordiniamo spendendo mille ne ordiniamo un po' un minuto e mezzo ne ordiniamo un po' allora 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 vediamo un attimo giusto così per farci due qua abbiamo una missione dove si va a decollare temperatura alta vento debole voglio dare un'occhiata ancora ai miei piloti perché danger perché danger questo aereo è stato preso ha preso danno ah ok ok a recluta ok possiamo spendendo reclutare degli aerei voglio reclutare questo il P40 con pilota annesso immagino quindi io accetto la missione e voglio portare ah devo pagare per riparare l'aereo ma scusate non me lo mandano subito l'altro pilota no? ah no devo aspettare devo aspettare vabbè mando il tempo più veloce magari aspettiamo voglio cazzeggiare un pochino e portare un altro aereo un po' più bello qua in battaglia adesso sono le 9 di mattina quindi non c'è problema perfetto eccolo qui che è arrivato il Thompson accetta portiamo Thompson questo questo no portiamo questo 3 aeree dai take off andiamo inizia la missione alle ore 10 del giorno 2 si va a fare l'altra missione vediamo un attimino come vi dicevo questa è una campagna degli Stati Uniti e ogni nazione quindi USA, URSS o Germania hanno tre mappe quindi mi pare che poi ci sia anche una mappa insomma in erba insomma una cosa un po' più europea ah abbiamo due cose da fare un attacco e una difesa quindi adesso io mi sposto di là però fa anche il passo indietro quindi è un po' da capire poi magari lo sviluppatore mi spiegherà mi sa parlare qualche magari bel trucco spara anche indietro questo eh sì eh sì sparava anche indietro lui aveva la mitaglia dietro dobbiamo difenderci quindi dobbiamo fare una mossa saggia lui continua a avvicinarsi io mi sposto io mi sposto no è stato birra io qua vabbè a te arriviamo seriamente danneggiato l'aereo qua abbiamo un'altra un'altra cosa avanti mi voglio spostare scusi si si spara poi a tuo fratello arrivederci tanto qua si ferma e andiamo a ispezionare che cos'è che ha il timone no l'elica l'elica ok sta arrivando un attacco eccolo qua il nostro nuovo aereo vediamo un attimino come sta per fast dive è una sorta di forbice carta sasso vedete lui spara anche indietro ma noi gli abbiamo fatto male belli questi aerei qua che sparano anche indietro lo so che c'erano sulla torretta di coda l'ho visto in wolfenstein ok dobbiamo esaminare esaminare cose rotte infatti adesso stiamo non stiamo neanche riparando stiamo esaminando le varie cose dell'aereo voglio vedere però questo mi fa il passo indietro eh mi è mancato però facciamo il passo di qua ah posso ancora una mossa sono in vantaggio perché è un aereo che si muove di più eh ci ha danneggiato abbiamo fatto un pareggio una sorta di pareggio quindi abbiamo un altro aereo danneggiato ok aereo nuovo adesso facci sognare ragazzo eh si questo andrà a finire in doppio e devi sparare indietro e ci ha danneggiato anche noi si si questo magari lo sviluppatore magari vorrà aggiungere una serie di magari punti ferite in modo per da non farci cadere tutti e due insomma comunque ragazzi allora questo era da Until The Last Plane se l'ho pronunciato giusto ehm un gioco sviluppato da Carlo C un italiano lo ringrazio ancora per la possibilità dell'anteprima insomma della demo che ora è disponibile a tutti su Steam il gioco uscirà nel primo quarto del 2021 ovviamente lo aspetto anche lui qua sotto come anche voi nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao